Oggi ci guardiamo insieme il secondo video di Tia Taylor che compra casa all'asta. Abbiamo già visto il primo video, se non l'hai guardato ti lascio il link e guardati la prima parte perché ovviamente è propedeutica alla seconda e oggi andiamo a capire le soluzioni che lei ha trovato per riuscire a superare tutti i problemi che aveva avuto nel suo acquisto. Cominciamo subito a vedere il video. So yeah, crazy stuff. The thing that kills me is that all of the waiting, all of these delays weren't even caused by... They were caused by people literally not knowing or not being able to do their jobs. This video is supposed to talk about the solution that we found and as I already told you guys in the last video, apparently the solution worked because we got pre-approved for the mortgage. Ok, qui già ci dice che sono stati pre-approved, cioè pre-approvati, si parla probabilmente di una delibera reddituale perché la prima cosa da capire è che le banche per arrivare a derogare un mutuo passano attraverso due step principali. Il primo è la delibera reddituale, quindi analizza i documenti reddituali e anagrafici ovviamente del richiedente il mutuo, quindi busta paga o dichiarazione dei redditi, la sua situazione patrimoniale e un sacco di altri documenti per capire se quella persona lì è valida per ottenere un mutuo come sta chiedendo. Quindi sembra che abbiano già passato questa fase e possono andare alla seconda fase che è quella della perizia, quindi quando il perito della banca, incaricato dalla banca, valuta l'immobile e quindi cerca di capire il valore e se non ci sono difformità urbanistiche e catastali. Ma continuiamo a vedere il video. Ok, qui lei sta cercando di ottenere un mutuo direttamente, quindi senza l'aiuto di un broker o una broker come nel suo caso. Stava andando tutto alla grande quando in realtà ha scoperto che per gli stranieri non concedevano mutui maggiori del 70%, si parla dell'importo di acquisto, quindi poteva arrivare al massimo al 70%, mentre inizialmente le avevano detto che poteva ottenere un mutuo al 100%, che ovviamente c'è una grossa differenza, diverse migliaia di euro in ballo. E qua, allora, non so nel caso specifico di Tia Taylor se può essere questa la risposta, però le banche di solito valutano positivamente il fatto di avere la residenza in Italia, ok, per concedere i mutui in Italia ovviamente. La considerano come una garanzia in più e alcune banche addirittura chiedono che la residenza sia già da cinque anni effettivamente in Italia e quindi chiedono un certificato di residenza o il permesso di soggiorno, eccetera. Ora non so se Tia Taylor abbia o meno la residenza in Italia, però potrebbe essere questo il motivo per cui arrivavano fino a un massimo del 70% e non al 100% come avevano precedentemente dichiarato. Ok, lei a questo punto contatta l'agente immobiliare dell'agenzia che si occupa di aste chiedendo se la scadenza per il saldo del prezzo da pagare per acquistare la casa potesse essere prorogata come già era stata prorogata diverse volte a causa della pandemia. E ovviamente l'agente immobiliare o chiunque, se non il tribunale, può far poco per estendere la scadenza. Cioè non dipende dall'agente immobiliare la decisione di quando, entro quando deve essere saldato il prezzo. Ok, qui è una buona notizia perlomeno. L'agente immobiliare la informa che la deadline, la scadenza per saldare il prezzo da pagare per l'immobile è stata prorogata di 65 giorni, quindi almeno ha un po' più di tempo per ottenere il mutuo e saldare la casa che sta comprando in asta. Ok, qui si capisce che la banca in cui aveva fatto application, in cui aveva sottoposto la sua pratica ha smesso di dare dei mutui, probabilmente da quello che si capisce dal video perché è stata acquisita da un altro istituto bancario. Non ci dà il nome, quindi non so darvi conferma o smentita di questa cosa e la broker le dice che dovrà presentare la sua pratica in altri istituti bancari per provare ad ottenere il mutuo e ovviamente vuol dire ricominciare tutto da zero un'altra volta ma non hanno nessuna scelta a questo punto. Ok, le diverse opzioni, quindi gli istituti bancari in cui hanno presentato la pratica i primi sono andati in maniera non troppo positiva tra l'altro una banca le ha rifiutato la pratica nuovamente perché è straniera anche, ripeto, come ho detto all'inizio del video non so la situazione di TIA, non so se ha la residenza in Italia ma più che per il fatto di essere stranieri è per il fatto della residenza cioè le banche valutano positivamente il fatto di avere una residenza in Italia ripeto, da almeno qualche anno e quindi potrebbe essere questo il motivo per cui la banca ha rifiutato di erogarle il mutuo first of all, we decided that me and Enrico are going to get the mortgage and own the home together I still stand by women not waiting for their partners to make big investments but covid literally froze time for this guy and in the meantime, so much changed for him he now has a job, a very stable contract he's a chemical engineer he has savings and we can get it together I was really psyched about being able to say I bought a house all on my own at 24 but in two weeks I'll be 25 and I'm tired ok, qui fanno una cosa direi intelligente lei e il suo compagno cioè decidono di intestarsi mutuo e casa insieme questo porta ad avere maggiori garanzie verso la banca ovviamente, intuitivamente per la banca è diverso avere una persona con un unico reddito rispetto a due persone con due redditi diversi è una garanzia superiore dal punto di vista della banca e quindi a questo punto potrebbe essere più facile per loro ottenere un mutuo I no longer have the foreigner issues thanks to him and he won't have to worry about income issues thanks to me we're going to get this house one way or another I swear it I'm currently back in talks with that bank from December and I also have a really good broker on call that is a friend of a friend he also did her mortgage in case that bank doesn't work out so that's where we're at ok, a questo punto si stanno affidando ad un'altra broker un'amica di un'amica a quanto dice nel video che sembra una persona perlomeno che a livello comunicativo l'informa sull'andamento delle cose dice anche che questa signora può dare i suoi mutui praticamente può darle un mutuo se con la banca non dovesse andare in porto ora, questa cosa sinceramente mi sembra un po' strana quindi non so cosa intenda con dare direttamente dei mutui però per essere banca e quindi concedere dei mutui servono 10 milioni di patrimonio e un SPA costituita quindi non so cosa voglio intendere con questa frase where we are now is we're in the phase of you know they have to what's the word in English they have to do an appraisal of the house so that they can update the market price and the bank can give us the money the amount of money that we actually are asking for because right now the price that it was going for at auction is obviously much lower than the actual market price so to get the amount we want from the bank they need to re-evaluate it and then we have to do all of the bureaucracy with the notary and you know legalize the whole mortgage transaction but these are more or less the easy parts because as I said we've already been pre-approved there's no, technically speaking nothing is supposed to go wrong at this point non sono troppo d'accordo ovviamente spero che tutto vada bene a questo punto ha avuto un sacco di peripezie però di nuovo ripete che sono stati pre-approvati dalla banca quindi hanno avuto una delibera reddituale la seconda parte come vi spiegavo all'inizio del video è avere una perizia da parte di un tecnico incaricato dalla banca e dopo aver avuto la delibera reddituale non è vero che niente può andare storto in realtà ci sono un sacco di cose che possono andare storte la perizia è una fase molto delicata perché il tecnico deve valutare innanzitutto se l'immobile ha la conformità urbanistica e catastale oppure ci sono dei problemi da questo punto di vista se vuoi capirne di più puoi andare a vedere il video che ho fatto qualche settimana fa a riguardo e quindi spero che l'agente immobiliare che l'ha aiutata nell'acquisto o comunque i consulenti che ha interpellato abbiano controllato che la casa non abbia difformità urbanistiche o catastali perché ovviamente questo imperirebbe di ottenere il mutuo la seconda cosa che il perito andrà a controllare è il valore dell'immobile anche qua avendo acquistato all'asta suppongo che abbiano acquistato ad un prezzo abbastanza basso e quindi abbiano bisogno di un importo di mutuo relativamente basso rispetto al reale valore di mercato dell'immobile ah e se volete calcolare il valore di un immobile in maniera abbastanza precisa e essere sicuri di quello che state andando a comprare vi lascio anche qua il link in descrizione per fare una valutazione online gratuita e vi rimando anche qua al video che ho fatto qualche tempo fa sulla valutazione del valore degli immobili ma continuiamo a vedere e poi dopo che all'inizio all'inizio in termini di rinnovazioni approfondi per la comune per la città che è che sia qualcosa che ho già preparato per me ma non potremmo ma non potremmo di questo anno e cosa che è stato in termini di rinnovare per arrivare a questo punto la stessa di non sapere e di pensare che tutto è ok e quindi all'inizio non è sicuro perché non ho ancora ok a questo punto il video termina ovviamente auguro a tia taylor di arrivare al suo obiettivo a tia taylor al suo ragazzo di arrivare al loro obiettivo e di riuscire a comprare la casa che la ristrutturazione vada al meglio e vi invito a voi che state guardando il video di commentare con la vostra esperienza confrontiamoci nei commenti scrivetemi se avete domande e vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella per ricevere le notizie che quando pubblicherò dei nuovi video vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao